Amici del Bardo, anche oggi sono qui per rispondere ad una delle domande che mi avete lasciato su Instagram nelle stories che uso per raccoglierle. E in data odierna mi chiedete, cosa ti ha stupito in positivo e in negativo del backstage WWE? Beh, questa replica che sto per darvi mi farà passare per aziendalista, ma di cose negative nel backstage WWE ne ho viste poche. E per lo più le ho viste in Italia prima della morte di Chris Benoit e di Eddie Guerrero. Prima di questi due momenti tragici, molti lottatori erano assolutamente indisciplinati. E anche con i media, anche con la stampa, avevano degli atteggiamenti non amichevoli, se li beccavi nel momento sbagliato. Quindi, questa è la cosa più negativa con la quale ho avuto a che fare. Non c'era voglia, non c'era rispetto, non c'era desiderio di parlare, di interagire, da parte di alcuni ovviamente. E anzi, c'era un atteggiamento quasi di superiorità e di arroganza. Dopo la morte di Eddie Guerrero e di Chris Benoit, WWE ha dato un giro di vite importante nel suo backstage. ha dato delle regole più ferree, ha dato una disciplina sicuramente più da grande azienda e da allora le cose sono radicalmente cambiate. Quindi le cose negative, parto da quelle che ho vissuto anche sulla mia pelle, erano quelle di un backstage francamente poco sano o comunque chiuso su se stesso. Cioè, tu non ci puoi entrare e se ci entri anche per lavorare, comunque se ci va, ripeto, non tutti, ad esempio Gioansina o Battista o Re Misterio sono sempre stati esemplari da questo punto di vista, però altri, cioè se ci entri, sei nel nostro campo, facciamo quello che ci va, prendi e porta a casa. Non un bel modo di reclamizzare la federazione, e se ne sono accorti. E dopo, purtroppo, ripeto, le due morti eccellenti, una addirittura ricca e foriera di polemiche, e discussioni, WWE ha costretto, giustamente, ad un cambio di direzione. Da allora di cose negative nel backstage, per quella che è la mia esperienza, non ne ho più viste. Le uniche che potrei citarvi, anche qui connesse agli show in Italia, non sono del tutto responsabilità della federazione, o quantomeno non sono responsabilità degli atleti. Ad esempio, io e Luca, anche quando abbiamo dovuto presentare le kermesse italiane, abbiamo sempre fatto una fatica boia a entrare nei palazzetti sportivi. Abbiamo visto altri che non lavoravano col wrestling, arrivare e mettere la macchina nella zona interna, protetta, mentre a noi quell'accesso è stato praticamente sempre inibito. Eppure dovevamo lavorare con lo spettacolo. Io una volta quasi non sono riuscito a presentarlo, perché arrivavo da Sky con Fabrizio Redaelli in macchina. Il Frank era partito più o meno pari a noi, però sapete che il Frank è molto più abile a guidare, è uno che riesce a fare tutte le serpentine, inserirsi, eccetera. C'era un traffico incredibile per andare al forum di Asago. Io sono riuscito ad arrivare nella zona del backstage, che è quella dove entri, quindi in gorilla position, tipo un minuto prima dell'uscita per presentare lo show. Perché sono entrato dalla parte dei fan. Non mi facevano entrare dalla parte del... no, anzi, ricalibro. Non sono entrato dalla parte dei fan, sono entrato dalla parte del backstage, dove mi hanno trattenuto tipo dieci minuti, nei quali imploravo per farmi entrare perché dovevo presentare lo show e mostravo il cartellino di Sky. E mi dicevano alcuni, sì sappiamo chi sei, ma non sei nella lista per entrare. Io dicevo, ma se faccio il giro e dentro tra i fan iniziano a fermarmi, io non riesco ad arrivare in tempo. Alla fine telefonate, dirigenti, il Frank e bla 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 mi hanno fatto entrare. Sono entrato, gorilla position, ho fatto tutto il tunnel, ho uscito a presentare. Ok, quindi questo è un problema organizzativo che si è presentato molte volte. Non così grave, dal tipo cacchio quasi non riesco a esserci, però, insomma, spesso io e il Frank abbiamo dovuto escogitare degli artifici per riuscire a raggiungere il backstage senza dover passare tra i tifosi. Ricordo ancora una dichiarazione di Jim Ross, un anno che erano in Italia, qualcuno gli ha chiesto nel suo blog di allora, ha detto che non ne pensi dei colleghi italiani, e lui rispose, ci ho parlato poco, li ho visti così, sembravano simpatici, peccato che erano un po' trasandati, ha dato una risposta così. E ci credo, Jim Ross, io quell'anno ho dovuto entrare nel palazzetto passando dall'ingresso dei fan, con tutti, perché erano gli anni del boom, che desideravano fare la foto ricordo, avere l'autografo, e per fortuna, a me piace fare queste cose, però tu arrivi con la giacca pronto a commentare e tutti si attaccano, magari c'è quello che ha un po' bevuto, c'è quello che è un po' sudato, e tutti che ti si appiccicano. Poi non mi dai un camerino, non ho un bagno a disposizione, non posso mettermi a posto, è chiaro che sono un po' trasandato. Mi avete fatto entrare in mezzo alla calca, all'ingresso di chi deve lavorare con lo show mi avete detto no, di qua non puoi passare e, insomma, non si poteva fare altrimenti. Allora, queste sono le cose negative, e come vedete poca roba, o comunque molto indietro nel tempo. Io ho tante, invece, tanti episodi positivi, tante testimonianze ottime dal backstage WWE, viste per lo più in America. Già vi ho detto che nei grandi show, perché io ci sono stato nel backstage WWE per Vrestalmania e per i Raw successivi, per tre circostanze, già vi ho detto che c'è un'intera città che lavora a Vrestalmania, dietro le quinte, migliaia di persone che non si vedono. Però c'è un clima rilassato. Al catering, ripeto, mangi al fianco delle star. Un anno abbiamo attaccato bottone durante il pranzo, ovviamente stavamo molto leggeri, con Tamina e Shinzuke Nakamura. Cioè io ho mangiato al catering con Nakamura alla mia sinistra, il Frank alla mia destra, e Tamina alla destra del Frank. Erano lì al nostro tavolo, cioè. E con Tamina abbiamo iniziato a parlare. È stata molto simpatica, tra l'altro. Una persona molto gentile. Abbiamo parlato con Alicia Fox lungamente. Dice, oh cacchio l'Italia, no? Che figata. E se vengo a visitarla, mi dovete dire quali sono le città, le cose più belle da vedere. Perché l'Italia piace a tanti atleti WWE o ex WWE. Abbiamo visto le figlie di Triple H e Stephanie nel ring giocare a fare wrestling con Natalia sotto la supervisione dei genitori. Ovviamente era un wrestling più coccoloso che combattivo. Abbiamo visto Vince McMahon dare istruzioni sullo stage di Wrestlemania a The Rock nell'anno in cui The Rock è uscito con Lanciafiamme. Ci è piaciuta l'atmosfera. Cioè oggi, oh magari le cose sono cambiate, non lo so, ma oggi tutti i siti americani danno l'idea, la narrativa, che il best stage di WWE sia popolato da persone col muso lungo, arrabbiate, incazzate, infelici, depresse. Io non lo so, probabilmente l'area di Wrestlemania galvanizza tutti, però anche chi non aveva un ruolo on screen o lì era presente ed era un team player. Ricordo anche un anno c'era un kick-off, noi eravamo nel backstage a guardarlo, e c'era Orswoggle che osservava lo show da un monitor di servizio, lo stesso insomma che vedevano a casa i tifosi, le stesse immagini, e partecipava emotivamente a quella battaglia. era coinvoltissimo e biascicava anche quasi come dei consigli e quando vedeva che una cosa era fatta bene era contento. Quindi una grande partecipazione. In un anno in cui su internet si diceva peste corna di Triple H che non sopporta lana, che la ritiene un'incapace, e frizioni, nervi tesi, noi li abbiamo visti nel backstage che ridevano, scherzavano, cazzeggiavano, cioè ci siamo detti ma dov'è questo clima? Poi è chiaro che essendo un ambiente competitivo tutti vogliono arrivare al top e se uno si trova la strada ostruita, qualche malumore lo vivrà al suo interno, siamo esseri umani, magari le sue aspettative si sentono un po' tradite, la sua voglia di primeggiare, perché il wrestling è una disciplina di intrattenimento, una disciplina dove conta il risultato, ma il risultato non è sportivo, il risultato è legato allo spettacolo e lo spettacolo è sceneggiato. Comunque c'è qualcuno che sì, vorrebbe arrivare nei top spot ma capisce che non ce la farà e sì, si ingronisce, gli cadono a terra e non è contento. Però ecco, abbiamo sempre visto un backstage pieno di vita, brulicante e vita positiva. Tad'altro in Italia per tanti anni ci hanno detto non parlate con i wrestler, cioè li vedete, salutateli solo se vi salutano loro, andate lì a fargli domande, a fargli richieste. In America invece ci hanno sempre detto se i wrestler non sono con un produttore, un arbitro, un dirigente, eccetera, li vedete lì, se volete chiedergli qualcosa, fatelo, alla peggio vi diranno sono occupato, non posso. Non avevamo necessità di parlare con i lottatori, di più delle volte ci hanno approcciato loro, però anche solo salutarli era bello, mentre in Italia addirittura dovevi quasi abbassare lo sguardo e dire se mi saluta lui bene e dovrebbe essere il contrario. Cioè il wrestler è la persona famosa e devo essere io a dire cacchio, buongiorno, ciao, come va, ben arrivato, hai bisogno di qualcosa, sei a una disposizione, no? Quindi ho visto tante cose piacevoli nel backstage che mi hanno colpito in positivo. Della raccolta fondi per il camionista purtroppo malato ve ne ho parlato di recente in un altro video di questa rubrica, no? Quindi io ho visto una grande collaborazione anche tra le seconde o le terze file, anche tra chi, ripeto, non era coinvolto direttamente da protagonista in nessun ruolo a Vrestelmenia, li ho visti partecipare, li ho visti uniti per un unico obiettivo. Quindi mi ha stupito questo perché effettivamente era già allora un qualcosa che potevo vivere e vedere assolutamente diverso da ciò che i reporter su internet volevano mettermi in testa. E lì ho iniziato a dire aspetta, aspetta, queste cose iniziamo a valutarle in maniera diversa. Ed è quello che provo a raccontarvi, poi non è tutto rose e fiori e ho fatto anche dei distinguo, ma non è questa terra desolata di lacrime e malcontento che invece vogliono farci credere alcune testate straniere. Tra l'altro ricordo un anno eravamo in macchina io, il Frank e i telecronisti francesi con la polizia che aveva diversi cordoni attorno allo stadio dove stavamo andando. Al primo cordone ci hanno chiesto chi eravamo, ci siamo presentati, ci hanno fatto passare. probabilmente hanno parlato con tutti gli altri posti di verifica e ci hanno tutti fatto passare. Cioè una fiducia in noi, poi ovviamente c'era un controllo finale della WWE con i bagagli che venivano scansionati sotto il metal detector, le perquisizioni personali, eccetera, ma una fiducia che effettivamente in Italia, dove anche di fronte a chi ci conosceva, non l'abbiamo quasi mai ottenuto, perché la lista è questa e lì invece ci hanno spiegato che la situazione era chiara. Cioè noi ci siamo presentati, abbiamo detto chi eravamo, se una volta arrivati all'ultimo controllo, quello della WWE, con anche presente l'autorità locale, fosse saltato fuori, che non eravamo, chi avevamo detto, per noi si sarebbero aperte le porte dei guai. Quindi siete questi, va bene, andate all'ultimo controllo, per ora ci fidiamo, se però l'ultimo controllo non siete chi avete detto, sono cacchi grossi. Quindi per fortuna eravamo delle persone giuste, hanno fatto tutte le perquisizioni finali, hanno guardato anche la macchina, e hanno detto ok, siete chi dite, andate avanti. Quindi sono rimasto sorpreso anche da questo, nel senso spesso abbiamo l'idea, ahimè, in alcuni casi anche corretta, che le forze dell'ordine americane sono molto severe, sono molto pignole, alcuni fatti di cronaca effettivamente sono spaventosi, però sono quelli che arrivano ai TG, probabilmente la forza dell'ordine, la forza pubblica di solito è al servizio del cittadino, l'abbiamo visto anche questo in maniera molto evidente quando siamo stati in California, prima di andare allo stadio di San Francisco, quindi a San Jose eravamo. Quindi mi è piaciuta anche questa cosa, cioè ok, va bene, andate a fare l'ultimo controllo allora, però attenti, se ci avete raccontato balle poi sono cavoli. Però ecco, paradossalmente è stato in alcune circostanze più facile muoversi per entrare nel backstage di Vrestalmania che muoversi per entrare nel backstage di un'arena italiana. sto pensando se c'è qualcos'altro di particolarmente positivo che ho visto nel backstage però non riesco a dirvelo perché alcune zone comunque ci erano precluse. Su alcune zone del backstage di Vrestalmania e anche di Raw c'era un valico che non potevi oltrepassare a meno che non eri un lottatore o un dirigente e negli anni in cui c'era una sorpresa tipo l'Undertaker con le moto eccetera c'erano delle zone con dei drappi neri con delle porte sorvegliate dove assolutamente non potevi neanche avvicinarti quindi mani in alto gira alla larga una cosa negativa del backstage WWE che posso aggiungere ma non è colpa loro è che in alcuni palazzetti dove ci siamo cambiati l'abbiamo dovuto fare in spazi molto ristretti o scomodi un anno e a Brastalmania dovevamo indossare un vestito particolarmente elegante che Sky affittava per noi un anno ci siamo cambiati in un bagno perché non c'erano più posti adeguati dove permettere dove si poteva creare lo spogliatoio per i telecronisti e quindi c'era un'immensa sala di cameraman e addetti ai microfoni saranno stati almeno 80 postazioni 80 telecamere diverse con staff dietro ad ogni telecamera quindi almeno un tecnico e un addetto al suono a volte erano anche in tre dico la verità un direzionale e noi ci siamo cambiati tutti i telecronisti internazionali in questa stanza enorme nel bagno di questa stanza perché che era grosso è un bagno enorme è perché non c'erano altri spazi perché dietro c'è talmente tanta roba anche come materiale di scena che siamo finiti lì però come vedi è un problema vedi dico vedete è un problema logistico non è un qualcosa di negativo dal punto di vista caratteriale o organizzativo per quanto riguarda lo show o l'interazione tra noi e i wrestler ma è successo solo un anno le altre volte in un modo o nell'altro ci hanno dato un posto più che dignitoso dove poterci mettere in ghingeri ok quindi queste sono le cose così alla rinfusa che mi vengono in mente magari ne ho dette altre in circostanze diverse nelle dirette su youtube su twitch eccetera quindi se la memoria mi ha fatto difetto ma mi avete sentito parlare di questo argomento in un'altra sede beh rinfrescatemela qui sotto nei commenti spero di avervi fatto passare una ventina di minuti scarsi in maniera piacevole e in quanto a noi ci becchiamo con la prossima domanda sempre domani e sempre alle 17 oh yeah grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti